buongiorno ezio buongiorno a voi madre come state sto bene e tu mi stai riprendendo dall'annata scorsa ma non so davvero di cosa di cosa rinno certo che non comunque la commissione da fare vorrei che mi si accompagnarsi con piacere mi mi sto molto da qui non mi ha fatto madre non c'è problema amico di famiglia segui maria so tutto dallo zuffo con ieri quale zuffo oh ti prego smettiamola con i giochini ci hai insultato non potevo permettere di continuare sono sicuro che stia passando un brutto momento per l'accusa contro suo padre francesco dei pazzi non essere spreggevoli maaa neppure io ho mai creduto capace di un domicilio che cosa gli accadrà immagino che ci sarà un processo e il mio padre testimoni per forza è lui che manda le prove vorrei che ci fosse un altro modo però non c'è nulla data mele tutti vogliono che sia fatta giustizia la nostra circostanza è incresciosa ma passerà e dove cazzo stiamo andando? a casa di un mio amico a fare cosa? eh cosa? madre vi sorprendete? no stazzi è una roba di foglie che cattive bottiglia andiamo da Leonardo forse si eccoci qua eccoci qua che posto di merda tuc 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 saluti Leonardo madonna maria maddalena questo mio figlio Ezio molto onorato l'onore è mio sarà svolto in uno da tutti i pori vedo che sia così onorato che non saprei ha un grande talento e si vede se stessi senza aiare per godersi la vita dovresti trovarti qualche sfogo sono pieno di sfoghi figa oltre alla topa intendo cazzo madre torniamo a casa vostra? si si eh ti dispiace aiutare Leonardo? ma certo che mi dispiace ah perchè loro erano tranquilli allora Ezio che ti ho qui? oddio che ti ho qui? eh mi pare ah diventerà un banchiere per ora e tu? e tu pittura vero? eh scusa ero intento la portare eh 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 baltanzosamente ragazzi la pittura mi piace a volte mi pare che il mio lavoro manchino non lo so uno scopo capisco vorrei occuparmi di cose più concrete più reali come l'architettura magari o l'anatomia non mi occorre di produrre il mondo voglio cambiarlo oh Leonardo non ho alcun dubbio che farete grandi cose vi ringrazio madonna madonna siete molto caro vi ringrazio madonna sei molto caro vuoi finire la missione? ti vi lascia l'oggetto ah ok perfetto grazie dall'alto il tuo figlio non ti disolverò il telefono so che parlo molto eh però se non c'è conoscenza spero di vedere questo no ho detto qualcosa anche perfetto vedo qualcosa anche io ahahah eh eh andiamo alla terza corso sì che eh sopra il tetto ehi Ezio oh ciao ma calma ce la porto la luce nata cosa ci fai qui fuori Petruccio? dovresti stare a letto? perché? ma non fa la piume ok per fare che? è un segreto cosa? se ne vado a prendere tornerai dentro a casa? io te la prometto oddio guarda la luce è strana inquietante coro via, coro via ahhh porto la mia pancia a casa una piuma ok un buco un buco un buco un buco test un buco test anche voi volete scaricare un buco test un buco test un buco un buco un buco andate su iTunes cercate di un mix che vedete la canzone sicuramente guardate proprio è sicuro Petruccio l'auditore ma potremmo anche andarci strisciando per andare perfetto avresti anche tempo di tornare a casa con quei minuti e cinquanta e cinque spunti si si tra l'allero tra l'allà io sono un free runner ahhh un pazzo mamma mia questo qua si calda nell'altro stile no proprio cialo un bel cavino proprio avuto adesso vieni ehm mi sono perso l'altra casa ok questa wow bella nooo buongiorno scusi si Petruccio di merda dove si è andato a finire è l'altarretto no bravo Petruccio che bello grazie fratello ancora non mi ha detto cosa ci servono vedrai 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 credo che aveva un moltissimo una porta che bello eh Ezio entra figliolo come non è che consegni questi documenti a la mia comitata in città devo essere molto baldanzosa oggi ma non è che credi non mi fai già dare una colomba e venuta andando qui va bene sarà fatto perfetto non mi ha baldanzoso torna qui non appena finito ci sono faccendi di cui non parlare e per favore figlio io lo so e dalla top giusto magari mi salto fai gatto no se proprio lui va certo però solo uno consigna speciale consigna speciale per ti ho fregato non lo sai da Fiora no perchè magari ci sono molte persone che lo dice magari non è proprio tu lo sai da? da Fiora perfetto quindi c'è una probabilità che è la mia uova diventeremo poveri diventeremo diventeremo ancora più poveri diventeremo ancora più poveri yeee perchè sono qua? sei figlio di johnny? no è nessuno che per cazzo è tale uguale a lui dammi un gu sta tranquillo ragazzo noi siamo contagiosi a meno uno mio hehehe hai capito? a a a a a ma ho capito eh io non sono contagioso ma lei si ah, si è 100 uomo tutto felino è quello che ha quell'idiotto che ha 100 uomo tutto felino è uno scrigno proprio che sbrai luccica anche che non ti riferisco oddio, oh, oh, sei un mossa? hai visto anche tu? no com'è? no, giuro non l'ho vista sei un mossa, ha fatto più è un po' si muove un po' ma si muove ma si muove certamente perchè sono pesante hai visto? sono ciocciole un punto verde qui sopra in questo mucco dai scendi, non fare il pauroso eccolo lì ho una consiglia da giovane letore? si te l'ho seguito? no, perchè l'ho seguito? dai il chico eh io trovo il padre che ci turiamo stanotte e che faccio altrettanto che si muove? che si muove? ma che succede qui? eh tornate qui spiegatevi no, no, no fatemi l'idiotto no aaah ahhh no la gente che fa il gelato no no ci siamo andati per il gelato ah no no uff 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 buongiorno sempre lui la panchina no che bello no che bello no no la colombaio giusto il la colombaio perfetto ok prendiamo la colomba se la mangiamo e siamo a posto non le stacchiamo le gambe ehm ok per una visione con testuale insomma ah che eh si ma la pari perché non c'è perché questa tastiera su un tasto no che che beh nel 100 film ooooooo ok no sento il buco ok no perfetto no scrigni gli scrigni contengono denaro cosa che credo questa è una questa è mappe nei mercanti d'arte denaro mappe è stato sviluppato TV un cammino dentro il cammino guarda guarda un cammino dentro un cammino è un buco davvero buon me lo parco dai oh mamma mi ha trovato cool la fonda attento con un corso pazzo man Oh no, non voglio parlare con te, no, non parlarmi, stavo scherzando, no, ti prego, vai via, vai via, no, io non riesco a parlare, no, lasciati, non bussi, no, sei matto, padre, Federico! Sì, scusate, mi dispiace, sei scema, che è successo, dove sono tutti, perché mi picchi? Hanno portato il vostro padre, possiamo tagliare per la sede, signori, il prigione! No, è mia madre, è mia sorella! E' Ezio, Claudia, stai bene? Sì, ma nostra madre... E' scema! Questo è il veicolo, vuoi portarlo da qualche parte? Sì, sì, è mia sorella! Va bene! Bene, perché è il tuo sorella? Bene, d'accordo, intanto andrò a trovare mio padre, dove in prigione? Stai stato attento, messerizio, le guardie cercavano anche voi! Sono troppo figo, comunque, uccellino in gabbia, una sega!